uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone dai uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xiodar e ragazzi nuovo pezzo del robot avevate ragione voi sono apparse da pochi secondi le ali ragazzi guardate che storia enormi anche queste si pensava che io pensavo non fossero non ci fossero le ali e invece le stiamo vedendo proprio in questo momento ragazzi meravigliose e incredibili il robot che praticamente ha quasi raggiunto la sua forma completa ragazzi le due braccia sono presenti le ali sono presenti e adesso dovremo semplicemente aspettare la patch 9.4 quella che arriverà molto probabilmente martedì per vedere la parte più importante ovvero sia la testa ragazzi che dirvi io vi consiglio come sempre di andare a dare un'occhiata perché è davvero meraviglioso vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live ciao 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 ciao